E come ogni giorno ragazzi facciamo subito il giro della ruota, vediamo oggi chi è il vincitore, vince Alessandro, facciamo subito il giro Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News Per andare a vedere nuovissime novità, soprattutto inerenti ragazzi a fondazioni Infatti oggi andremo a vedere tutte le sue ricompense del set, ovviamente ottenibili per tutti i giocatori che hanno il pass battaglia E poi ovviamente andiamo anche a vedere quando verrà rilasciato, infatti esattamente il 3 febbraio tra 24 giorni e un giovedì usciranno tutte le sfide e ovviamente sarà ottenibile tutto il set Per quello che riguarda le ricompense la prima pagina l'abbiamo già tutti ampliamente vista ma come possiamo vedere nella pagina 2 abbiamo delle ricompense ancora da svelare La prima è questa, infatti questo dovrebbe essere il deltaplano di fondazione che si intravedeva già nella schermata del capitolo 3 ovviamente stagione 1 E questo invece è ovviamente vi lascio anche la clip proprio tutte quante le varianti che avrà la skin di fondazione Quindi si potrà modificare l'elmo, si potranno modificare anche i colori dell'armatura, ovviamente ci sarà anche l'opzione per togliere l'elmo e quindi questo è diciamo come si presenta la skin di fondazione E come possiamo vedere la skin di fondazione quindi presenta comunque sia la variante normale standard sia ovviamente quella tutta colorata di nero Molto molto carina, quindi queste sono tutte le ricompense che potremmo ottenere esattamente il 3 febbraio Tutte quante ovviamente ottenibili tramite delle sfide che sono attualmente decriptate nei file di gioco, verranno svelate più avanti E poi le ricompense diciamo segrete, alcune le abbiamo viste, altre sicuramente saranno ancora da svelare Ma questo grosso modo è tutto quello che ci dobbiamo aspettare da questo set presto in arrivo per ovviamente tutti i possessori del pass battaglia Detto questo noi ci vediamo domani, mi raccomando se non sei ancora iscritto iscriviti, lascia un bel like e niente ci vediamo domani con nuove news Bella